Romina Power, la figlia di Albano e Romina Power e gli ultimi impegni in tv.Come tutti ben sanno, Albano e Romina Power hanno quattro figli, Ilenia che è scomparsa nel 1994, Yari, Cristel e l'ultima Romina Junior E proprio di quest'ultima vogliamo parlarvi. La ragazza di recente si è fatta conoscere di più dal pubblico italiano Infatto dopo aver inscenato dei sipariecchi a 55 passi nel suo show celebrativo per la carriera del padre, poi è stata ospite a Domenica in con la sorella maggiore e vieni da me Ora la ragazza ha postato uno scatto che ha come soggetto il cantautore di Cellino San Marco Romina Carrisi prende in giro il padre su Instagram, ecco cosa ha fatto appunto nello specifico, Romina Carrisi ha pubblicato uno scatto in cui appare il padre Albano rivelando ai seguaci che è quella l'immagine che il genitore ha utilizzato come foto per il suo account Uzza Accanto allo scatto la ragazza ha scritto questa didascalia. Potrebbe fare l'influencer con questa nuova foto di Whatsapp In pratica la quartogenita della storica coppia ha ironizzato sul padre.Albano Carrisi nuovo giudice di Amici di Maria De Filippi E a proposito di Albano, alcune ore fa sul nuovo numero di Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, è riportata una notizia sul cantautore di Cellino San Marco A quanto pare l'artista sarebbe in pole position come nuovo giudice di Amici 18.Loredana Bertè a fine mese andrà via dal talent show di Maria De Filippi, quindi uno tra l'ex di Romina Power, Sabrina Ferilli e Ornella Venoni potrebbe prendere il suo posto Alcune ore dopo, però, Loredana Bertè ha chiarito su Facebook che non abbandonerà Amici La cantante salterà solo una puntata, molto probabilmente a maggio, per via della sua tournée La cantante salterà solo una puntata, molto probabilmente a maggio, per via della sua tournée